Resta qui con noi Il sole accende già Se tu sei fra noi La notte non verrà La notte non verrà La notte non verrà Ma Cristo ha domicile La notte oggi Apprezzata, la notte La notte La notte La notte La notte La notte La prima lezione è un gruppo importante. Il primo gruppo è un gruppo poco semplice, poco vai vai. Il secondo gruppo è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira che non scrive Sira. Sira ne, posta, observa di, reziita, lancia informazione falsa. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. La prima lezione è un gruppo di Sacerbote Ulumbo Sira. per la sera questa è la Maria Magdalena Maria Magdalena ha chiesto della bravo ma apposta per il maniere Cristo che mora a sempre e ha visto la vita e la vita ma non ci vediamo Maria Magdalena ha detto la prima volta la mia apposta è stata unaRu says C'è libro che ho chiamato, che ho fatto, che ho detto l'amore, che sono apposta. C'è Cristo Morisiasone. Ma è bene, apposta continua con la fia, dubbi da, a chuta, anche qui suono. Icus mai, Jesus mosurasi bani apostolusano lui rezi ida Oli apresenta nian, hatudu nian Hau idanebe Maria Madalena Kulia Hau idanebe Maria Madalena Haklake Hau mat morisi a zona Hau idanebe apostolusira hato'o ba'imi Haklakem ba'imi Hau morisi a zona Hau anu ea momento neba' apostolusira fir Tanpa Jesus rasik mosubasira Jesus hatudu rasik nian an No hatudu nian evidensia nian kanexira Tanai sirafir Hau fuin idanebe Jesus vognar basira I bambungu tomat bahaglake imansira Manu saranenom sira Nara sai missionari Nara sai profeta Hau idaneba padre Madre Madre Maivei idakudu neve simona batismo Ia idanein Jesus Christu nianara Ita sai missionari Sai embaixador de Cristo A da bay 확antin Ia amat va'imi To'i maa i ai Nana sai Ia amat P artudu nianavi Adalega Adalega Mbachke Ita na preenca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.